La mia casa ha bruciato assieme a tutti i miei soldi. Ebbi pure qualche problema con gli sbirri, ma se ne occupò Eddie. E dato che non avevo assicurazione, ero costretto a vivere in quella merda di appartamento finché non mi fossi ripreso. Almeno avevo salvato Leo. Scomparvi senza lasciare traccia. Harry mi fece un grosso favore. Eddie lo tirò comunque dentro, appena saputo della fuga di Leo. Io e Joe avevamo un nuovo partner. Ehi Vito, sono Harry. Ehi! Senti, sto organizzando qualcosa di grosso. Voglio che ci entri anche tu. Se ti interessa saperne di più, vediamoci a Lincoln Park e portati un ferro. Ok, ci vediamo là. Ehi Vito, ci vediamo. Prossibile veicolo rubato. Ricevuto. Furto di veicolo in corso. Inseguo il sospetto. Dieciquattro. Dieciquattro. Questa qui è matto. Ora lo si suspendiamo. Ricevuto. Questa qui è matto. Tu? Grazie a tutti. 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 Com'è che lo sei? Ho parlato con delle persone fidate. Ok. E questo che c'entra con noi? Se può farlo lui, perché non noi? Un chilo di eroina in Francia costa 2500 dollari. Altre 1000 dollari e la fai arrivare qui. E? E noi ci becchiamo 11 testoni solo per portarla agli spacciatori. Sono 7500 dollari di guadagno per ogni chilo. Sì, e che mi dici di Falcone? Carlo non lo scoprirà e anche se lo fa ci minaccerà e ci chiederà una fetta. Ok, ma dove la compriamo la roba se Carlo è l'unico fornitore in città? Sono più avanti di voi. Che cosa sapete delle tonghe? I gialli. Sono un'organizzazione per immigrati cinesi, giusto? Che minchia ho detto? I gialli. Giusto, ma è una facciata per altre operazioni. Gestiscono il quartiere cinese, stanno tra di loro. Però alcuni vogliono fare affari con gli esterni. E gli servono intermediari, visto che molti hanno paura di trattare con loro. I intermediari saremo noi? Già, alle nezze ci daranno dieci chili. A quanto? Trentacinque mila. E noi le vendiamo per? Centodieci. Minchia! Ok, ma come mettiamo le mani su trentacinque testoni? Conosco uno strozzino, l'ebreo sulla Palisade. Ce li presterà se gliene ridiamo quarantacinque. E così ci beccheremo più di venti testoni a testa. Niente male, solo per spostare un po' di roba. Ma sai chi si farà sta merda? Che ti frega, finché non è nel nostro quartiere. Vinci, arriva ragione. Droga vuol dire problemi. Senti, si drogano solo gli idioti, i poveri e i falliti. E se sono tanto ansiosi di ammazzarsi, io li aiuto volentieri. Specialmente per venti testoni. Ho dei clienti nel ghetto. La distribuiranno loro. Non è un nostro problema. C'è stato o no? Ci sto. Ora, giovedo, non essere stupido. Sono venti pedestoni in un pomeriggio. Quando? Proprio ora. Se non accettiamo l'offerta, le Tong troveranno qualcun'altra. Vito, sarà una passeggiata. Andiamo a trovare Bruno. Vito, che ne dici di portarci a Palisade strette? Ok, andiamo. Vito, che ne dici di portarci a Palisade strette? Allora, chi è che incontriamo, R? Si chiama Bruno È uno dei pochi in città che possono fare un prestito così grosso Se non ce lo fa, chi succede? Allora salta l'accordo Ma non preoccuparti, io lo conosco C'è tra i soldi Non c'è nessun altro che ci può prestare quei soldi Ce ne sarebbero altre tre Ma se intendi chiedere 35.000 dollari a Carlo, a Frank Vinci, accomodate pure Ok, no grazie Chi è il terzo? Non è più in affari Qualcuno ha fatto saltare in aria una stanza con dentro tutti i suoi ragazzi E poi gli ha sparato in faccia con un Thompson Ah, da lui? E dai, abbiamo detto che non dovevamo parlarne Allora, Henry, com'è che questo ha tutti sti soldi? Penso abbia ottenuto i soldi da alcuni boss di fuori città che sono nella commissione Sì, dice davvero Eh già, ecco perché dobbiamo fare attenzione Inoltre è meglio che questa cosa non si sappia Possiamo fidarci? Certo, c'è che si fa prestare i soldi da lui da sempre Finché siamo puntuali con i pagamenti non avremo nessun problema Bene, fermati qui, Vito Mi scusi, è colpa mia Oh, scusi Ciao ragazzi, siamo qui per Bruno E' là, Henry Se avete delle armi, tiratele fuori Vi devo controllare Ciao Bruno Salve, Henry Allora, a cosa bevo il piacere della tua compagnia? Mi servono 35 testoni in biglietti da 20 Sono un sacco di soldi, Henry Un sacco di soldi? Dimmi, perché dovrei darli a un pesce piccolo come te? Convincimi Ho un affare sicuro Ne riavrai 45 entro la settimana Che tipo di affare sicuro? Mi dispiace, Bruno Segreto professionale Allora 45 non bastano Sarei più tranquillo con 65 E' un po' troppo anche per te 50 al massimo Henry, Henry Non ho alcuna garanzia che rivedrò i miei soldi E tu non hai nessun altro a cui rivolgerti? Che ne dici di 60? Non vederli come interessi Diciamo che sono la mia fetta di torta 55, ultima offerta Se me ne chiedi di più ce le metto io D'accordo Ti do 35.000 dollari E tu me ne ridarai 55.000 entro venerdì Se non mi ripaghi entro quella data Il debito sale di 10.000 alla settimana Li avrai entro venerdì Ok Isaac Prepara 35.000 dollari in pezzi da 20 Sai che mi fido di te, Henry Ma se cerchi di fottermi Ricorda queste parole della Bibbia La mia collera si accenderà E vi farò morire di spada Le vostre mogli saranno vedove E i vostri figli orfani Esodo, capitolo 22, versetto 23 Sono colpito Non dai l'idea di uno che va molto in chiesa Ma ricorda I soldi non sono miei Quindi anche se riuscirai a liberarti di me Non ti libererai del debito Per cui niente cose strane, ok ragazzi? Certo Bruno Grazie Isaac Vuoi contarli, Henry? No, mi fido Te le riporterò venerdì assieme alla tua fetta Lo spero Buona fortuna ragazzi Buona fortuna ragazzi E al lavoro, R Chiaro Te l'avevo detto che li avrebbe mollati, no? R, com'è che conosci così bene la Bibbia? Ti sei messo a leggerla? Uso sempre la stessa citazione Vado in chiesa la domenica Ho chiesto al prete Tu vai in chiesa? Già E so perché non ci vai tu Usano paroloni Non ci sono puttane E il cibo fa schifo Già E' tutto vero Cazzo Non ci vado dal Dal 45 E che? Da quando Tomaccia ti ha obbligato a confessarti? Già Quando mi ha picchiato Per aver importunato una ragazzina E tu Gio? Quanto è passato? Pasqua Beh, neanche tanto Del 41 però Come l'hanno detto Finirete all'inferno E hai capito solo adesso? Tranquille Mi terrò due posti vicino a me Sai, ho sentito parlare di uno strozzino chiamato Bruno una volta Deve essere lo stesso tipo Sì? Che hai sentito? Beh, conosci Michiel Granchio, no? Chi? Quello che pulisce il cesso al covo di Carlo? Sì Quello che ha solo il pollice e l'indice sulla mano sinistra Indovina com'è successo? Ho sentito dire che dovevo un mucchio di solda a un ebreo di Southport L'hai visto? Il resto lo immagino Non preoccuparti Il Granchio è un coglione A noi non succederà nulla del genere Attenzione! Va bene, ci siamo quasi Passa dal cancello e vai nel cortile Ora seguitemi Ehi, dobbiamo fare affari col tuo capo Seguitemi, signori Signor Wong sta aspettando Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ogni sacchetto contiene un chilo. Ogni chilo pesa un po' più di due libre. Quale vuole provare? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta, questi non sono sbirri. Avanti, uccidate lì! Spara, Vito! Vito, guardaci le spalle. Ecco, ne arrivano altri. Un'altra. Ce l'ho... Mi penso. Bene. Ma ce ne sono comunque troppo, andiamo. Oh, Alberto, da lì non si torna indietro. Correte! Muovete il culo! Esci da là, Vito! Non startene lì come un coglione! Muovete! Vito, guardaci le spalle! State lontani dalle finestre, ragazzi! Merda, rito! Non c'è senso di rimanere qua. Scendiamo! Non c'è senso di rimanere qua. 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 Fatelo fuori! Oh, beccio di me! Fatti giusto! Grazie a tutti. 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 Forse i cinesi hanno cercato di fodderci. Non credo, non credo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Entra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.